Qualità dell'aria discreta per 5 città italiane, tra cui Battipaglia, moderata per altri 29 centri e scarsa per altre 27 città. I dati emergono dal visualizzatore della qualità dell'aria nelle città europee, che è stato pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, che classifica 372 centri urbani, con oltre 50.000 abitanti dal più pulito al più inquinato, in base ai livelli medi di particolato fine. L'inquinante atmosferico con i maggiori impatti negativi sulla salute. I dati che sono stati raccolti da oltre 500 stazioni di monitoraggio in località urbane nei paesi membri dell'aria negli ultimi due anni solari, ovvero il 2022 e il 2023, dimostrano che solo 13 città europee avevano concentrazioni medie di particolato fine inferiori a livello guida, basato sulla salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di 5 microgrammi per metro cubo di aria. Guardando più nel dettaglio all'Italia, sulle 61 città che si trovano nelle classifiche, con la qualità dell'aria migliore per quanto riguarda il PM 2,5. Ci sono Sassari e l'ultima è Cremona. Cinque sono quelle che ottengono una valutazione discreta, ovvero Sassari, Livorno, Savona, Battipaglia e Siracusa. E successivamente c'è Salerno, la cui qualità dell'aria è definita moderata.